Oggi facciamo il primo aggiornamento dell'anno sul progetto smaltimento 24 in meno, vediamo com'è andata nel primo trimestre. Ciao, io sono Laura e oggi parliamo di smaltimento prodotti e in particolare facciamo il primo aggiornamento dell'anno riguardo il progetto 24 in meno che abbiamo ideato io e Simona Maschun Simu su Instagram e su YouTube, al quale si sono aggiunte un sacco di persone strada facendo e che consiste, come già l'anno scorso, di due parti, due o più parti. Una parte in cui si finiscono prodotti e una parte in cui si pannano o usano almeno 10 volte altri prodotti. Io in particolare ho deciso di finire 14 prodotti, di pannarne 5 e di usarne almeno 10 volte altri 5 per arrivare alla somma di 24 che fa 24 in meno del 2024. Detto questo, vi avevo promesso un aggiornamento ogni trimestre, quindi questo è il primo aggiornamento, quello che riguarda i mesi di gennaio, febbraio e marzo e devo dire che sono molto soddisfatta, è andata molto bene, ho finito molti prodotti, è andata un po' peggio e lo vedremo dopo con i prodotti da usare 10 volte e quelli da pannare, ma tempo al tempo. Allora, tra i prodotti che io avevo da finire, come al solito ho il mio bel quaderno, ho anche distrutto la penna, il quaderno elettronico su cui mi segno tutto quanto, i prodotti che ho finito in questo primo trimestre sono ben 9. Ammetto che avevo un po' barato perché alcuni di questi, anzi praticamente tutti, li portavo dall'anno precedente, quindi erano quelli che non ero riuscita a finire nel 2023, però comunque è un buon risultato. Partiamo dalle basi, dai primer diciamo, ho finito la Van Premier Gel Bon Min Velour Matifiant di Color Caramel, questo era un primer che io avevo comprato pensando fosse il famosissimo primer di Color Caramel che non ha colore, invece avevo comprato quello colorato, che aveva questa colorazione un po' marroncina, non particolarmente adatta al mio incarnato. Sono molto contenta di averlo finito. È un buon primer, volevo riprovarlo a distanza di tempo, non credo che lo ricomperrò di nuovo. Ha sempre una sensazione sulla pelle che è un po' troppo spessa, per quello che piace a me, siccome adesso se ne trovano tanti di primer molto più, diciamo, leggeri, altrettanto modificanti, non credo che lo ricomprerei. Ho anche usato come primer questa BB Cream di T-Luzed, che avevo trovato nel calendario dell'avvento di Vanity Space Blog, non so più neanche quanti anni fa, l'ho usata, mischiata a quello, perché questa invece era troppo chiara e troppo rosatina per il mio incarnato. Era comunque una buona formula, nel senso che aveva abbastanza un potere uniformante, era proprio una BB Cream, cioè quello che fanno le BB Cream, cioè uniformare l'incarnato e rendere la pelle un pochino più bella. Questa era nella colorazione medio chiara, ma è chiara appunto, è leggermente rosata, quindi dipende da che incarnato avete e da che abitudini avete nel trucco. Poi ho finito tre correttori, che sono questi tre, sono lo Stay Walk Concealer di Uma Beauty, bellissimo, purtroppo mi dicono che Uma Beauty ha fallito e quindi non si trovano più i prodotti, grande perdita, perché veramente il prodotto, sia il correttore che il fondamento mi piacevano tantissimo, avrei tanto voluto provare una delle palette, delle loro palette di ombretti, perché me ne avevano parlato molto bene, non ho fatto in tempo, ha fallito prima e quindi niente. No, anzi, vabbè, c'è una vicenda un po' strana, nel senso che la creatrice se ne è allontanata, il brand è stato venduto, però insomma c'è una situazione un po' strana, però fatto sta che alla fine non si trovano più i prodotti, quindi niente. Molto buono anche il Long Stay Concealer di Astra, questo è uno dei miei correttori preferiti in assoluto ed è anche molto low cost, è molto elastico, abbastanza coprente, va bene anche sul contorno occhi, anche per me che ce l'ho ormai un pochino secco. Invece non ho amato, ma ho comunque finito il correttore di Clio, sul mio incarnato nel correttore e nel fondotinta vanno bene questi di Clio, questa era la colorazione ML06, che è quella che è giusta per me, io amo sul contorno occhi mettere un correttore, un pelo più scuro dell'incarnato, perché mi contrasta meglio il colore dell'occhiaia, e questo appunto però sul contorno occhi a me non piaceva perché mi segnava troppo, l'ho usato invece con piacere sul resto del viso e l'ho finito così. Ho finito due fondotinta, sempre che mi portavo dall'anno scorso, gli opposti, nel senso che il Fit Me Maybelline è coprente, mattificante, affidabile, bello, low cost, e il MAC Face & Body è luminoso, idratante, appiccicoso, non autosettante, costoso, si capisce quale mi è piaciuto di più? Vabbè, il Face & Body non fa assolutamente per me, quindi volentieri me ne sono liberata. Ho finito finalmente un'altra cosa di cui finalmente mi sono liberata, è la NYX Brow Glue, cioè il gel per sopracciglia di NYX, quello trasparente, che vedete sporco perché nel frattempo si sporca, e questa è una delle cose che non mi piacciono, ma soprattutto non mi piaceva perché le mie ciglia sono delle ciglia un po' particolari, perché sono molto lunghe, e tenerle in piega è quasi impossibile, e lui non ci riusciva. Devo dire che non ne ho ancora trovato un gel che veramente mi piace, quello che sto usando in questo periodo però, eh sì, insomma, ci si avvicina molto, a diventare, cioè, probabilmente diventerà il mio preferito, vediamo. E poi l'ultimo prodotto che ho finito, quindi erano questi otto, più questo e l'ultimo fanno nove, ed era il MAC Fix Plus, questo è il famosissimo spray fissante di MAC, appunto, a me piace molto il potere fissante di questo prodotto, però lo avevo in questa confezione, che è quella precedente, adesso pare che l'abbiano risolto questo problema, che spruzzava, non aveva una nebulizzazione molto buona, per cui spruzzava un po' troppo in maniera aggressiva, io l'ho finito però con piacere e con soddisfazione, usandolo per bagnare la spugnetta con cui mettevo il fondo o il correttore, in particolare il correttore, perché mi aiutava a non dover mettere poi sopra troppa cipria, e come vi ho detto io ho un contorno occhi secco, quindi mi aiutava in questo senso, e quindi mi rimangono da finire i due blush, che ancora sono a carissimo amico, il correttore lastra, quello pure beauty, che è una colorazione un po' scura, però un po' troppo scura, e lo userò penso quest'estate, un po' di più, il pigmento MAC Naked, che ormai ce la posso fare, devo finire, ma non mi scordo di utilizzarlo, ho perso l'abitudine di usarlo a ogni make-up, e le palette glitter di Nabla, che non sto usando proprio più, perché è un tipo di prodotto che non uso praticamente più, e quindi tra una propria difficoltà mi devo impegnare, poi tra l'altro si rovina anche un po' la formula, quindi questa mi devo anche un po' sbrigare a farla. Laura dell'editing, mi sono dimenticata di citare due prodotti, cioè i due blush che ho ancora nel progetto smaltimento da finire, che non sono finiti, sono ancora carissimo amico, che sono il blush di Apisha, e il blush di Freck, il Cheek Slime, sono entrambi ancora, insomma, hanno ancora un bel po' di strada davanti da fare, però non li ho citati, mi sono dimenticata, altrimenti non tornavano i conti. Comunque, ecco, questi erano i due prodotti che mancavano. Il mio progetto smaltimento è un progetto rolling, cioè ogni volta che finisco un prodotto, ne inserisco uno che lo sostituisce, per averne sempre 24 in totale, e anche in questo caso ne ho aggiunti alcuni, che diciamo vengono dall'anno scorso, e che sono più a buon punto e forse un po' più furbi, e alcuni invece un po' meno furbi, ma che comunque devo finire. Allora, dall'anno scorso, in condizioni ormai disastrate, c'è il correttore albicocca di Ripar, che mi piace tantissimo, e che però ha un pao, se non mi ricordo male, di sei mesi, e sarà aperto tipo da due anni, quindi io mi devo sbrigare ad utilizzarlo, però devo dire che sta andando avanti, non mi lamento di come sta andando, però mi devo un po' spicciare, perché veramente è un po', comincia ad essere un po' vecchio. Devo finire e sforzarmi di finire il, oddio come si chiama questo, Blurring Balm Powder della linea Yummy Skin di Danessa Myricks, è un primer, questo dovrebbe essere sia idratante, sia, è trasparente completamente, sia anche mattificante, o comunque dovrebbe tenere a bada il sebo, la produzione di sebo, il pack è stupendo, c'è pure questo affarino, che per prelevarlo, è stupendo, va bene, io lo sto usando poco, non mi dispiace, però non è un prodotto, che proprio mi fa la differenza totale, quando lo uso, e quindi spesso me ne dimentico, per questo motivo, mi devo un po' sforzare di utilizzarlo, mi forzo a mettere questo prodotto, che è il 4 in 1 glow, Perfector di Maybelline, non perché questo prodotto non mi piaccia, ma tutto il contrario, cioè lo sto centellinando, io ho paura che alla fine lo tengo lì, per non usarlo, per paura di finirlo, invece lo voglio finire, e poi lo ricomprerò, perché mi sta piacendo moltissimo, è uno di quei prodotti stile Hollywood, flawless filter, di Charlotte Tilbury, per cui fa un po' tutto, cioè uniforme all'incarnato, lo illumina abbastanza, cioè ha un leggero potere uniformante, un buon potere illuminante, però ha una luminosità non metallica, non falsa, molto naturale, molto bello, davvero molto bello, e funziona anche, quindi fa tutto da solo, è uno di quei prodotti che lo mettete, mettete solo lui, e già la pelle sta benissimo, anche la mia pelle, che non è proprio una bella pelle, ci sta comunque molto bene, molto furbo, mi rendo conto, però pure questo, mi devo finire a forzarlo, è la matita di Zao 551, che è piccola piccola, ma la devo finire, perché altrimenti, anche questa è aperta da un bel po', e va negli occhi, quindi non voglio, non voglio rischiare, di mettere negli occhi cose, che sono andate a male, voglio finire anche queste due matite, invece labbra, che sono a tartan di neve, e brick, di MAC Cosmetics, quella più rossa e brick, quella più diciamo rosata, marroncina, è tartan, anche queste sono aperte da tanto, tra l'altro il pack del pastello labbra di neve, purtroppo fa sempre questo lavoro, le voglio finire, sono due matite che ho usato tantissimo, tra le uniche matite che ho usato l'anno scorso, sono due formule che amo moltissimo, e non voglio assolutamente rischiare, che vadano a male, prima di poterle finire, quindi le devo usare, voglio finire anche, un altro prodotto che mi piace moltissimo, che è il Melt, questo come si chiama, Sex Foil, adesso lo dico, Sex Foil Digital Liquid Highlight, nella colorazione Stargazer, ed è un illuminante liquido, di Melt, adesso si è tutto spostato, ma non ne manca moltissimo, sarà più o meno qui, è un prodotto che mi piace moltissimo, soprattutto ho mischiato al fondotinta, ai fondotinta quelli un pochino più passosi, per renderli più fluidi, e un pochino più idratanti, e meno opachi, perché in questo periodo amo di più, la base è un po' luminosa, mi si è rotto il tappo, quindi ho paura che si possa seccare la formula, e poi mi farebbe veramente piacere finirlo, perché è un prodotto che ho molto amato, e amo moltissimo, e questo secondo me è un illuminante stupendo, va bene anche da solo come illuminante, però io mi rendo conto che non sto utilizzando, l'illuminante proprio non lo sto utilizzando più in quanto tale, e quindi lo mischio sempre al fondotinta, cioè lo uso mischiato al fondotinta, quello si presta molto, quando finirà io sono in dubbio se comprarne un altro liquido, perché veramente ne sto usando pochissimo, e visto che adesso ho fatto tanti di questi prodotti appunto, tipo Hollywood Flawless Filter, che serve proprio anche a dare un po' di luminosità, e che possono essere mischiati al fondotinta, per ottenere questo effetto, forse mi affiderò più a quel tipo di prodotto. Poi voglio finire questo qui, che abbiamo usato insieme in un video che ha tradito with me, di prime impressioni, la fondotinta compatto in balm di Astra, e lo sto usando, vedete lo prelevo, e lo mischio con le creme di Made by Mitchell, perché così ottengo il mio colore più adatto, avevamo visto insieme che il colore è un po' troppo chiaro per me, e lo voglio finire, non mi piace, cioè non mi piace l'effetto che ha su di me, però ce l'ho, quindi lo finisco, e a questo punto lo mettiamo in smaltimento, e un altro prodotto che voglio finire assolutamente, che stavolta non è di make-up, è l'olio prodigioso di Nuxe, questa è una boccetta grande, che io ho comprato diversi anni fa d'estate, e che poi alla fine, che ha un pao di 12 mesi, che sarà scaduto non lo so da quanti altri 12 mesi, è un prodotto che può essere usato, è a molti uso, può essere usato per il corpo, per i capelli, per il viso, sul viso e sul corpo, per me è un pochino troppo aggressivo, perché è un mix di oli, dal tocco secco, però forse non mi piace molto usarlo sulla pelle, invece mi piace da impazzire sui capelli, perché li rende belli lucidi, e ha un profumo paradisiaco, quindi mi piace moltissimo, solo che ovviamente sui capelli, non se ne usa tantissimo di olio, di questo tipo di olio in particolare, per cui ci metto un po' a usarlo, però voglio portarlo al termine, perché ho paura che si rovini, mi dispiace se be' davvero tanto, quindi questo era il capitolo, diciamo, prodotti da finire, quelli finiti, e quelli che ho inserito al loro posto, poi c'è il capitolo prodotti da pannare, che erano, come avevo detto, 5, non sono riuscita a pannare niente, ho il fondotinta di Ripar, anche questo, me lo scordo, questo è molto bello, io lo uso spesso per illuminare, ecco, per fare questo lavoro qui, a trucco finito, illumino proprio lo zigomo, come se fosse un illuminante in crema, però opaco, è un effetto molto bello, ma io me lo scordo, come mi scordo di usare quello di Melt, come illuminante, o di usare l'illuminante in polvere, questo anche me lo scordo, alla stessa maniera, quindi mi devo un po' forzare ad utilizzarlo, e per ora non ho avuto grande successo, non sono riuscita a pannarlo, e invece uso tutti i giorni, in tutti i make-up profile, degli skin bronzing di Nabla, che è questo bronzer qui, che ha una conca fantastica, cioè veramente molto scavato, ma non si vede la fine, non si vede il panno, manco per sbaglio, non lo so se ce la farò, entro la fine di quest'anno, ma va bene, non ho utilizzato per niente, il balm, il bronzer in balm di Danessa Mike's, che pure è tra i prodotti da pannare, ma questo è un po' scuro per me adesso, quindi lo sfrutterò d'estate, e invece ho tanto usato, ma ancora ben lontano dall'essere vicino al pan, ben lontano dall'essere vicino al pan, vabbè, ben lontano dal pan, è il bronzer di questo duo di Tarte, mi piace moltissimo, lo uso in ogni make-up, però non sembra essere particolarmente scavato, ammetto, e sta andando discretamente, ma ancora il pan è abbastanza lontano, secondo me, volevo pannare almeno uno di queste cialde, della Beauty Opsi Palette di Indash, come vi ho detto io questa l'ho deglassata a palette per il viso, e tranne i colori chiari che uso nell'angolo dell'occhio tutti i giorni, infatti sono quelli più scavati, però non ho ancora abbastanza da avvicinarsi al pan, però ho buone speranze per quello, infine ho i prodotti da utilizzare almeno 10 volte, e questi sono quelli su cui sono andata peggio di tutti, sto facendo, sapevo che era un po' il mio tallone d'Achille, però sta andando peggio di quello che pensavo, allora come prodotto prepu, allora in questa categoria ci sono anche abitudini, e una delle abitudini è fare degli impacchi pre-shampoo, in particolare ho comprato questo olio di una linea di The Money Choice, che è una linea per capelli ricci, che mi piace moltissimo, che odora di buono, che speravo mi spingesse a fare più impacchi, invece no, li ho fatti solo una volta, e non mi riesco ad abituare a farli, quindi sono veramente molto indietro, perché avevo detto li faccio almeno una volta al mese, siamo a fine marzo, e l'ho fatto una volta sola, stessa cosa, non sto andando molto bene, ma almeno l'ho fatto tre volte, le maschere viso, e questa che ho portato in, come dice, come rappresentante della categoria, è la maschera viso all'anguria, peel-off di Royal Beauty, dovrebbe essere una maschera idratante lenitiva, mi era piaciuta tantissimo quella in, in tessuto, e invece, questa qui mi piace di meno, perché il peel-off è davvero molto aggressivo, quindi tutta la cosa bella di avere idratante lenitivo, se ne va con questa cosa qui, però vabbè, a prescindere da questo, ce ne ho tante altre di maschere che potrei utilizzare, ma me le scordo, anche questa è una cosa che non mi ricordo, ma la cosa che mi scordo più in assoluto, tant'è vero che l'ho usata zero volte all'ombretta, l'eyeliner, cake liner di Laura Mercier, nella colorazione mahogany brown, me lo scordo, cioè non mi piace, a me di fatto non mi piace l'eyeliner su di me, quindi non lo uso mai, e quando ho dei giorni in cui lo potrei usare, perché magari faccio dei trucchi scemi, basterebbe quello lì per renderli un pochino più particolari, me lo dimentico, e quindi niente, anche gli ultimi due prodotti, che sono due ombretti in crema, altro prodotto che probabilmente non fa per me, però anche in questo caso, nei trucchi quelli scemi che fai in velocità, poi alla fine me li dimentico, sono i due ombretti in crema di House Laboratories, di Rire, che è un brand coreano, e entrambi li ho usati solo due volte, quindi anche di questi mi devo un po' occupare, e poi mi devo un po' sbrigare, quindi questi erano tutti i miei 24 e più ormai prodotti, io sono molto soddisfatta, perché già solo tutti quelli che ho finito, mi hanno dato una grande soddisfazione, certo mi rendo conto di dovermi applicare un po' di più, su queste altre categorie che ho veramente molto trascurato, e tra l'altro comincio a fare anche un po' di difficoltà, a trovare rimpiazzi per le cose da finire, perché avendo fatto scendere così tanto la mia collezione, in termini di numero, poi farò anche finalmente un video di inventario, arriverà, ce l'ho, o lo farò, comunque avendo fatto scendere così tanto la mia collezione make-up, e skin care non riesco quasi più a trovare dei prodotti da inserire, da finire, che mi devo forzare in qualche modo a finire, quindi sono pure un po' in difficoltà, fatemi sapere per voi come sta andando lo smaltimento, fatemi sapere cosa pensate di quello che ho combinato io, se questo video vi è piaciuto mettete un like, se il canale vi piace, se io vi sto simpatica iscrivetevi al canale, e niente, se vi faccio ci vediamo alla prossima, ciao